E per le nostre interviste, perché golf? Perché no? Ciao, sono Luca Martingano, nick name non ne ho, forse uno che mi è stato filmicason, ma non so il perché. Allora lavoro presso una multinazionale di consulenza qui a Milano, da circa 12 anni, mi occupo di marketing. Allora, da quando gioco a golf? Da pochissimo tempo saranno un anno e mezzo. Diciamo, sono un neofita della situazione, a livello mediocre, nel senso, dal mio punto di vista che sono molto critico, sono agli inizi, però da quello che mi dicono chi gioco con me, sono un livello abbastanza sufficiente. Il golf l'ho scoperto tramite un amico che mi ha intromesso all'interno di questo sport, perché ero un giocatore professionista di calcio, solo che ho avuto un problema di salute che non mi ha potuto permettere più di giocare a golf, a calcio, e mi sono lanciato in questo sport che mi ha sempre affascinato, ma non l'ho mai praticato. Prima non avevo conoscenza, mi sembrava molto 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 facile. Incominciando a giocare ho capito che come sport è molto difficile ed è molto bastardo come approccio. Allora, Costanza, una libertà mentale, da quello che ho potuto capitare io, e un forte allenamento. Di colpi ce ne sono stati tantissimi, ma sono colpi a fortuna, tra virgolette, che mi sono capitati all'ultimo. È stata una partita tra amici, ho fatto un approccio da circa 10 metri in bugato. Cosa ti hai fatto provare? Non posso dirlo, perché sennò entreremo in una zona hot. Allora, il golf è condivisione, tranquillità e rapporto con persone. Grazie mille e ci sta! Ragazzi, ci sta! Ciao ragazzi! Grazie mille e ci sta!